L'ho scritto così, guarda, aspetta eh, che ti faccio vedere, qua, aspetta, no, il discorso che facevo proprio del calore che veniva fuori, cioè che dall'interno viene il calore e si propaga in superficie, no? Secondo me è scritto, è scritto molto male, allora dov'è? Che genera, giusto? È qui che non mi inquadra, capito? Prova per me un'occhiava. Cosa dici? Un meccanico interno molto complesso che esiste un meccanismo che è un'idea che al suo interno genera calore. Nettuno! Viene, viene poi trasportato in superficie generando violenti tempeste per... Cosa dici? C'è qualcosa che non va, o sai? No, no! No, no, come se c'è qualcosa che non va? Esiste... Considerato il pianeta più freddo del sistema solare, cioè in poche parole Nettuno non è il più freddo del sistema solare, capito? È Urano quello più freddo, solo che Nettuno ha all'interno, ancora i scienziati non hanno capito bene cos'è. Quindi non è il pianeta più freddo. C'è una fonte di valore interna. Non è il pianeta più freddo? No, non è il pianeta più freddo, non ho detto che è il pianeta più freddo. E perché dice considerato il pianeta più freddo del sistema solare? No, non è considerato, se leggi il paragrafetto prima. Ah, cioè non è considerato... Non è il pianeta freddo del sistema solare. Esiste un meccanismo al suo interno che genera calore, complesso, molto complesso, che genera calore. No, esso viene... No, esso no, esso... No, che genera calore? Trasportato all'esterno, a superficie, capito? Cioè il pianeta... Sì, ho capito, ho capito, questo calore. Ok. Sì, vorrei dirle, vorrei dire che questo fatto che viene trasportato in superficie, genera le tempeste. Stiamo a fargli un po' di confusione. Sì, l'ho capito. Sì, questo meccanismo genera... Questo fatto che il calore viene in superficie, provoca tempeste. Sì, però io dico generando violenze, tempeste, al gerundio si dice. Non lo so, non lo so, faccio schifo. Ah, sì, vabbè, voglio dire. Allora, nel caso che i video venissero guardati da professori italiani di antologia o di che, scusate il mio italiano, ma faccio proprio schifo. Dove cazzo è? Allora, esiste un meccanismo... Esiste infatti un meccanismo... cioè, all'interno del pianeta, un meccanismo complesso, complesso, che genera calore e trasportandolo in superficie provoca violenti tempeste. Ok, vuoi fare così? Però non ho capito, Giovanni, il meccanismo generale tempeste. Sì, sì, è questo. Allora, un meccanismo che genera calore e violenti tempeste. Cioè, no, ma basterebbe cambiare una parolina, anziché generando tempeste si dice genera tempeste, al presente, no? Non è questo secondo me l'errore. Scusa, manda indietro, manda indietro, manda indietro, manda indietro, manda indietro, manda indietro... Ma... Ma vedi che c'è una mosca che rompe co... Non dico la parolaccia. Cosa è? Cosa è? Stavolta non la dico la parolaccia. Allora, il centenio invece sarebbe solito come roccia. Vabbè, non è questo. Aspetta che mi manca. Ma sì... Voglio dire, ma è che ora devi parlare... Devi parlare al professor di... Università. Magari, guarda... Ma il problema almeno... Almeno dire l'italiano giusto le cose. Sì, si può accettare... Cioè, dovrebbe... dovrebbe esserci un altro modo, però... Poca parola mi sta dicendo che la gente non ci fa caso. Ho l'errore in italiano. Non è un errore, secondo me è un'imperfezione. Magari... Cioè, voglio dire... Non è che è un errore. Balle. Non ci fare che cosa? Sei così perfettino, così precisino. Cazzo... Scusa, se diciamo fischi e diciamo anzi, diciamo fischi... Non è la stessa roba. Fischi e fiaschi. Fischi e fiaschi, va bene. Va bene, la data... 23 settembre del 1846. Cos'era io che con le date... Non mi ricordo neanche la mia del compleanno. Me la ricordo solo perché è santo Stefano, se no non me la ricorderei. Va bene, va bene... Ok, pronto? Dai, dai che... Ci provo. Per fare cosa? Prova di farlo! Ma non è che è cambiato il testo! Cosa non l'ho cambiato? E qual è il testo cambiato? No, ma come lo dico, non mi è piaciuto! Ma... 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 ma dai! Un panino blu nelle profondità nello spazio. Un mondo lontanissimo fuori dalla nostra portata. Arrivederci! Cosa, lo hai! Questa è la stessa! Grazie.